Ci sono due camere, una dove dormo io e una dove dorme mia mamma. E allora loro quando hanno aperto la porta con la lampadina mia mamma subito si è alzata un attimino e ha chiamato Virgilio, pensavo che era io. E allora loro spaventati sono scesi di corsa e sono andati via. Due di notte i ladri saltano il muretto, scassinano la seratura, entrano mamma e figlio stanno ancora dormendo, si sveglieranno soltanto quando i ladri, in due, non contenti dei soldi trovati al primo piano, frugando ovunque, spaccando anche il salvadanaio, decidono di salire al primo piano, svegliando la proprietaria di casa. Qua il vicino ha i cani, però neanche i cani è bagnato. Il figlio Virgilio non sente nulla, i ladri sono riusciti a prendere la borsa della mamma a rovistare dentro, portandola in giardino, volevano soltanto soldi. Ho portato via solo soldi, io avevo anche un compiuto sopra il tavolo, però non l'hanno portato via, volevano solo soldi, praticamente. Siamo in una villetta in via Casette, a Saletto di Breda di Piave, sul posto. Sono arrivati i carabinieri per fare i rilievi e raccogliere la denuncia. La via è una laterale piuttosto esposta di via Argine-Piave, una strada molto frequentata. Non solo, la stessa notte sono state razziate altre abitazioni, poco distante, in via Casoni. Per fortuna non hanno fatto niente con noi, hanno portato via solo soldi e basta.